Diventa purtroppo inarrestabile il flusso dei profughi provenienti dall'Ucraina, un teatro di guerra sul quale continuano le ostilità. Dopo una prima trattazione avvenuta la scorsa settimana sul fronte della solidarietà, è arrivata in aula del Consiglio regionale una mozione a firma dei consiglieri del Partito Democratico, Michela Fanelli e Vittorino Facciolla, attraverso la quale si impegna la Regione a un doppio livello di interventi, il primo sul fronte interno delle misure di accoglienza. Ci sono due blocchi di proposte che facciamo, uno chiaramente riguarda quello che in Molise si può fare per i profughi ed è quello più concreto ed importante, un altro invece guarda un po' il panorama nazionale al sostegno alle azioni che il Governo nazionale sta intraprendendo. Il primo, le tessere di libera circolazione per chi arriva, il sostegno alle misure sanitarie a partire dalla vaccinazione, l'aiuto per la permanenza perché esiste un sistema di accoglienza ma hanno bisogno di ulteriori aiuti, inserire nel futuro bilancio previsionale della Regione Molise una posta finanziaria dedicata a queste esigenze, penso ai medicinali, penso alla sussistenza, ai ricongiungimenti che vanno supportati attraverso i piani sociali. Ancora siamo sicuri che nelle scuole ci saranno dei bambini che andranno inseriti, come accompagniamo l'inserimento, nell'università possiamo dare delle borse di studio. Ecco, sono tante proposte concrete per far bene in un momento in cui loro stanno molto male. Noi li accogliamo a braccia aperte. L'altro versante sul quale il Consiglio impegna il Presidente Toma nella veste di commissario delegato per l'emergenza è quello nazionale, ovvero di un intervento sul Governo teso a sostenere i contraccolpi economici del conflitto in corso. Sulle misure nazionali chiaramente c'è il tema delle imprese più colpite dall'export, del caro energie, quindi le misure che l'Unione Europea sta predisponendo soprattutto per i Paesi più colpiti dalle sanzioni. Quindi sosteniamo la visione nazionale che aiuta il sistema Paese in questo momento e siamo quindi molto vicini anche alle nostre aziende, alle nostre esigenze, ai problemi dei rincari delle bollette e quindi anche su quello diciamo all'Unione Europea e allo Stato italiano di fare presto.